buon ciao a you eccoci qua dal vostro nonno della rete buonasera ragazzi insieme all'amico mantis vi mostro il mio nuovo mazzetto e lo andiamo a scoprire voglio fare questo esperimento vediamo se a voi può arrivare diverso come quando faccio il mio lavoro è difficile il video difficile tante cose però piano piano ci arriviamo lo sai che ho pensato che cosa hai pensato che ti sei montato sì avevo pensato il fatto che spiegando a una persona diretta il dec capito può arrivare la stessa spiegazione simulare la spiegazione su youtube ok allora quello che ho montato è una rivoluzione del dec mono nero quello lì che piaceva a te piaceva anche cavalcanti omicidi no col gatto con gli scartini gli scartini tutti i scartini ci sa il pre da palluti gli arroc a un quattro in quattro perro sì che quando ne giocavo da 24 anche che quando entra in gioco e si è una carta da mano l'avversario ha deciso una carta che in mano e la mattina esilio con tre mano può prendere più uno più uno in late game cioè a gioco avanzato questo è forte perché insieme al ratto che fa diciamo la stessa cosa per invece di esiliare esiliare dalla mano la scartano solamente diminisce le carte in mano che hanno fatto di bello in teros questo cicciotto che rivoluzione il decco aggiungendogli il rosso al mono nero soprattutto per lei due ma la 6 6 però la si deve sacrificare se non è fuggito fuga è un'abilità che ha sotto che dice con due mana neri due mana rossi possiamo esiliare cinque carte dal nostro cimitero per metterla in gioco lui ogni qualvolta entra in gioco e o attacca l'avversario deve scartare una carta da mano se non ha scartato una carta non terra perderà tre punti vita la cosa bella di questa carta uno che se scarta terra c'è la carta che può essere più inutile in certi momenti si becca i tre danni ma se lui non ha carta in mano si beccherà lo stesso tre danni perché non non lo soddisfa la condizione perciò è una carta che anche a zero mana fa tre danni ogni volta attacco potrebbe fare tre sei nove è grosso è tutta due mana è tutto dire è tutto dire vabbè carta esagerata che va in combo pastore degli incubi in quattro copie e mercante di asfodelo quindi non è più sacrifice no 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 quello che io ho vincito ne ho qua con il mono nero scartino che era il primo che ti volevo far giocare da lì diciamo l'acqua e tutto e da quel deck io feci il brobro che a te piaceva mono nero era l'evoluzione di quel deck fatto in versione brobro qua ci sarà il mercante che la carta fortissima cioè era comune nella prima terra se l'hanno trasformato in un comune in questo momento è fortissimo 5 vale a 2 4 quando lui entra in gioco fa tanti danni e noi guadagniamo tanti punti vita pari alla devozione con nero che vuol dire la quantità di mana nero nelle nostre carte fai che ci sono solo queste tre carte in gioco in una copia due quattro sei danni lei entra in gioco fa sei danni a te io guadagno sei punti vita aspetta tutte queste carte quando entra in gioco scartano una carta a mano le esili a questa scarta se lei che cosa fa ogni quavvolta 4 mana 4 4 volare già è sbloccato cioè già è buona con un effetto della madonna ogni quavvolta un'altra creatura che controlliamo non pedina amore la esiliamo e mettiamo una pedina che la copia identica compresa il costo di mana con la stessa abilità solo che una 11 però l'esiliamo cioè quando morire la pedina è finito lì il gioco però metti che abbiamo queste tre le muore poi ritorni in gioco facciamo altri sei danni metti che c'è lei che può possiamo sacrificare la creatura per profetizzare noi andiamo a far comparire scomparire lei o fa scartare le carte all'avversario e praticamente vuoi c'è questa combo se nel caso arriva lui già li esili due carte si è capito e già li fai 12 danni crocsia purtroppo viene sacrificato perché non viene soddisfatta la condizione di fuggire però comunque fa male vabbè questo è proprio il finisher il ramingo è la carta che fa giocare oltre volare perché ho il terremoto si si di volare no è forte no lo finisci si questo finisci a brist a brist prima tutte le tante risoste da mano e poi cerchi di andare in combo lei ti fa profetizzare entra in gioco a tre mana e crea una capra 0 1 sacrifichi un'altra creatura perciò quando lei con la combo col pastore mettiamo la copia no profetizziamo uno con cinque mana ritorna al cimitero esiliando altre quattro carte però entra con due segnalini più uno più uno perciò cinque mana 5 4 che anche essa non è male questa urgeva montarla il plasma contagio tre mana 3 2 entra in campo di battaglia ogni giocatore deve sacrificare o una creatura o un place worker anche noi se non lo se non lo può fare scarto la carta la mano questa si gioca soprattutto contro il blu bianco controllo premetto una creatura della madonna che che anti malocchio non può essere bersagliata questa fa sacrificare è uno dei modi per togliere questa creatura fortissima questa carta fortissima e questo cavalo di sfinge che sta rivoluzionando e poi fa fuori qualsiasi cosa pure un place walker sarebbe il nostro kaiju in una buonanima due cavalcanti omicida non quattro e noi in questo caso no perché o voglio cercare di essere il più veloce possibile scartando tanto tanto istantaneo tanto tanto e invece di montare quattro di questi ho montato due cavalcanti della notte perché perché con il passore può fare pure lei una bella combo entra in gioco possiamo sacrificare una creatura e distruggere una creatura dell'avversario perciò può essere simile hanno tutte e due legame vitale solo che lei è 45 cost ha 3 di devozione nel nel costo perciò va bene con il mercante e in più quando muore possiamo riprendere una creatura che costa 3 o meno dal cimitero e rimetterla sul campo di battaglia perciò loro 5 possono rientrare e fanno farne l'oro facciamo sacrificare la creatura all'avversario rimettiamo la capra e controlliamo le pescate e novità di questa carta che all'inizio restamente non mi piaceva invece adesso ne ho trovato un bel po' di significato è una saga a tre capitoli quando entri in gioco facciamo il primo capitolo e ogni turno dopo aver pescato mettiamo un segnalino e facciamo il capitolo fare i segnalini arrivato al terzo lo sacrifichiamo che dice mettiamo nel cimitero le prime tre carte del nostro grimorio poi possiamo esiliare o creatura o incandesimo dal nostro cimitero e se lo facciamo creiamo una pedina 2 2 zombie nera e ci fa fare pezzo in più ci fa fare carte dal cimitero per poterle fuggire perché loro fuggono dal cimitero esiliando altre carte così velociziamo la nostra fuga da new york poi guadagniamo x punti vita e x profetizziamo x perciò controlliamo la pescata pare i zombie che controlliamo con lei creiamo almeno due zombie qualche altro zombie fuori mano c'è però più o meno cioè non è molto leggero però c'è il cavalcante però no non contiamo questo comunque fa qualcosa potrebbe fare qualcosa io mi piacciono i due capitoli mi sono innamorato i due capitoli e infine è la tecci ci ho voluto mettere un place worker a tecci personale sì sì liliana era troppo pesante e ho optato per lui un davriel tre mana tre segnalini fedeltà un giocatore bersaglio scatta una carta da mano con meno uno se l'avversario all'inizio del suo turno a uno meno carte in mano si becca due danni in faccia quattro shock lento rosse nere quattro skyland rosse nere monopalude e monopalude scusami monomontagna correggimi due passaggi leggendari monomontagna sì eh sì perché alla fine ho solo lei rossa capito con il rosso ho già otto terre doppie più due che si possono andare a cercare la montagna e ti trovi sì non mi posso lamentare cioè è un po il resto che non non lo so sembra sono tutte belle certe carte però a volte contro alcuni deck buono fatica si faccia fatica soprattutto contro gli agro sembra strano gli agro è dura da far fuggire comunque lei andrà a costare quattro mano i zombie sono poche niente e le altre creature cioè devo solo sperare che lui un po lento in mano e riusciamo a scartagli tante carte a mano ok con chi hai trovato un match up positivo a me conti contro conti contro si se loro li riusciamo a picchiare tanto scartagli tante carte a mano non fanno più niente li toglie tutto istantane si si leviamo le mie e poi leviamo qualche minaccia dobbiamo cercare di non farlo pescare noi invece peschiamo anche col castello e sono nove paludi ovviamente e raga spero che vi è piaciuta questa deck profile grazie mille per la visione grazie mille a claudio credo stargate oltre al mio canale vabbè in descrizione ma aggiungerò in questi video aggiungerò stargate che cosa fa per ora yugioh però vabbè ho iniziato con una deck profile di yugioh ho rubato il primo posto al local vabbè e poi non tratta solo di yugioh ma poi inizierò anche a fare recensioni di videogiochi diciamo è a divertimento dai spero che non siete arrivati a questo punto del video ci bella voglio buonasera ragazzi